a alla fuori e mi sono aggregatore quindi traditore io? il mio vecchio mi ha fatto giocare con bocati siete solo in 10 peraggio vuole giocare con tuo figlio siete 20 lo fate giocare a tuo figlio l'età media deve rimanere aosco già con Filippo si è abbassato signor Albizio Manfredi piccola interruzione è più figlio come numero come si vede canto un nuovo legato non è giusto è giusto io sono con un po' di giù un po' di giù e aspetta qui? bravo Danilo 1 a 0 Galaxy Galaxy chi ha ronato il tuo pariato bravo Andri 1 a 0 per l'oro 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 6 a 0 5 6 E' sinistro Ale, quello là è sinistro. Come la puoi prendere con le mani dietro passaggio? Uno qui! Sì, però non capisco perché... Però non capisco perché la linea, ma per lì, ha sempre la palla con rimbalzo, non ce l'ha a rimbalziare così. E' così, è sbagliato. Aiutiamo, oh, aiutiamo, scambiamo, aiutiamo. Stai solo, Robby? Bravo, Robby. Occuno che l'aiuta? Veloce! No, l'hai fatto bene, l'hai ragione della cosa che potevi fare, l'hai fatto bene. No, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene. No, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene. No, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene. Aiutiamo, aiutiamo, vai. Filo, filo, gira, 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 va bene, hai fatto bene, muovi. Non sto parlando, scusami. Tutto, devo pensare che questa squadra sarebbe diventata una squadra alla panchina lunga. Veloce! Andiamo alla super panchina. Vietro veloci! Che facciamo? No, in serio, diamo il posto. Dimi il posto, ci divertiamo qua, noi non ci serve la seriale, ci interessa divertirti. 50 euro e ci regaliamo fuori. Non 50. 50 euro, peccato proprio per niente. Siete nove, quanto nasfait? Manco riceve l'euro lui. Allora, 50 euro a persona. A persona, manco. E' su! Bianca, bianca, bianca! E' bianca! Fai gol! Fai gol! E' via! Vai, vai! Oh, regal! Vai, Dio, vai, 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 vai! E' solo, Robby! Ma che trovo? Allora! Oh! Zhuò, Dani! Boh ilora! Mohiro Ball! Combino, bravi! Nova saranno! Okkum ero abbatte! Fotto! Veloce! ONE, TWO! No! Vai Andri! Perché non gioca dietro pane come l'altra volta? E Maniscalchi e Filippo insieme. Vieni perché mi sei buttato! Giocò bene l'altra volta dietro pane. Ti vedo che non ero in campo quando avete iniziato. Non l'avete impostata bene, ma scordi. Io sono me Zamparini, gli dico la formazione a Sannino. Di balà in campo me lo devo vendere. Va bene, va bene, tranquillo. Almo, attento ai giusti. Grazie. 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 Queste lavoro per assistizio, A presto pesce, Vai, liento! Guarda via, vieni! Guarda via la , Corte?. Guarda via la sяетazione a destra, vedete, ve lo spazio libero. No, perché hanno battuto veloce però hanno battuto da dietro, c'è una posizione completamente diversa Eh, è stato un retro passaggio sul portiere, ha fischiato fallo, guarda Lì poi ha battuto veloce ma da una posizione completamente diversa A parte che dovrebbero battere dal limite dell'aria, penso Guarda, guarda, hai visto? Ormai siamo avanti No, nel senso ormai Grazie 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 Benampasso! Benampasso! Formenti! Formenti! Perfetto. Perfetto. Voi? Ehi! Benampasso! Non ci credo Come avete visto si è messo il pallone Tu hai talento per farlo finire Se ne prendiamo un altro Brava, no, I'm free Ma si hanno milioni di palloni Nascosti là dietro, penso Che senti? L'arbitro Quando inizia a contare Che ha portato la palla in mano Capisci niente Forse magari vuole prendere la parola Da scuola Si può parlare Sì, ma quando si fanno i primi cambi Siamo al 12 Sì, ma quando si fanno i primi cambi Fifi muoviti Fini No, è dietro Sì, infatti si sta... E se la fa... C'è tu una calefata... A parlare nostra... Devi tornare a scoprire! Occhio, occhio! Occhio, c'è? Occhio! Tre' sanno tre... Forci! Occhio, due senti sa tre... la mano tra i piedi ragazzi stai al minuto venilo stavo sporgiando in attacco tu mi fai il cambio così ti stavo guardando il nuovo ma si un termine davanti io ci stavo me lo faccio una attività a Filippo io lo faccio eh no 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 aspetta un po' che il cambio una piccina e Massimo Rieta il chilografero è così che dice ci crede oh grande grande ha pagato il portiere sicuro si Filippo fai entrare un po' con Stefano dai il suo figlio là ma così la vai prenderla tutta la volta grazie no solo ve lo sono ricordato ahahah ai si si è buono tecnicamente ehi Otto ehi Otto ehi Otto hai fatto golla Otto si un euro golla ha fatto però ehi Otto ehi Otto ehi Otto io il culo ti ha fatto male zio aspettalo come si golla ehi oi Aspetta, zio, calmo. Lui è tu. Andai zio. Sei solo, Piero, sei solo. Dai. Vieni, oh. Vieni che sei veloce. Ma lei è presa. Lasciala fuori, lasciala fuori. Gioca. A culo, vieni. Guardate, rubetti, guardate, rubetti. Occhio. Scegliete tutti e due, Stefano. Quelli, o stai, sono veloci, uscindete tutti e due. Vieni, vieni, vieni. Vallo, vieni. Vieni, vieni. Vallo, vieni, bravo. Bravo, vieni. Vieni, bravo,, dai. Che culo. io ti ricordo che lo chiamavamo Gaetano anni fa cavallopazzo proprio per questo altieri 2 a 2 pareggio dei Galaxy tu resta avanti e ancora giù dal centro Davino! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. lascia non si può dire e poi un'altra piccola pitta e poi ne sono smagg Grazie a tutti. Fuori, fuori, fuori. Aiutiamolo. Tiraci. A uomo, Stefano e Mario, a uomo. Bravo, bravo, bravo. È di pane il gol, non è di... Era fuori gioco comunque. Non era un influente, diciamo, che la tocca. 3 a 2. È tuo, Manfred, è toccato a tu, Manfred. Oh, ma per l'occhio è un padre. Eh, per l'occhio è un padre. Andiamo per il gioco. Andri, andri. Stai malato del 8 a 1 lì. Perché gli ho rotto la testa. Cioè, da lei si sono tolti la palla a 8 a 2. Guardate, 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 guardate. Un semplice 3 contro 1. Porta, la porta, la porta, la porta, la porta, la porta. Alza la testa. Bravo, Mario. Ma che f***o. Oh, la rete, dai, gira direttamente. Non è solo, la porta. Non è solo. Mi rime di questo dato. Non è solo. Non è solo. Grazie! 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 Vabbè! Il po' ne esce più senza! Che è meglio! Fai una cosa! Oggi è rimasto solo a casa della sua ragazza. Quindi ho capito. È rimasto solo a casa con la sua ragazza. Quindi ho capito. È venuto dopo tre orate a casa mia. Quindi... Sarà bello scarico. Cioè, da sotto la vostra noventa. Alessia! ... ... ... ... ... ... Invece... ... ... ... ... ... Bravo, bravo figlio. Dai, dai, la. Minchia, Massimo, non la passa mai Stefano, la fa a posto. 3-2 quadri fogli a primo tempo.